HG ARS è una macchina flessibile che ci permette di lavorare 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. Io sono Daniela Magistrale, sono titolare della MCA, un'azienda città in Sumirago, in una zona molto industriale vicino a Varese. La mia azienda occupa 40 addetti e produce pezzi molto estetici. La nostra specializzazione riguarda materiali molto delicati, quindi lucidi quasi sempre. Il settore di maggior produzione è il settore alimentare ed è quello delle macchine del caffè. Da qualche anno l'obiettivo dei nostri clienti è quello di lavorare a Kanban e quindi con lotti sempre molto più piccoli il cliente richiede da noi una flessibilità maggiore. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di ricercare macchinari che ci permettono di poter cambiare lavoro con molta velocità e molta flessibilità. Abbiamo prima valutato pannellatrici perché ci sembrava che la pannellatrice potesse essere la macchina adatta sia in flessibilità che in velocità. Abbiamo visto che di molti pezzi che facevamo, quasi tutti quelli che abbiamo analizzato, non chiudevamo un pezzo. Quindi a malincuore ho dovuto ricredermi su quel tipo di tecnologia e virare su altre tecnologie. E a quel punto abbiamo chiesto ad Amadea di aiutarci con il loro centro di engineering, di aiutarci a trovare una macchina che ci potesse dare la stessa flessibilità ma la possibilità di fare lavorazioni più particolari che erano quelle che servivano a noi di fatto. Tra le varie macchine che abbiamo valutato, HG ARS è stata quella che ci ha dato la possibilità di raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Quello di essere molto flessibili e di avere una produzione precisa 7 giorni su 7, 24 ore su 24. La macchina è molto versatile, ci dà la possibilità di cambiare lavoro in pochissimo tempo e nello stesso tempo di non utilizzare pezzi di prova. Quindi già al primo pezzo riusciamo a raggiungere l'obiettivo con HG ARS, siamo in grado di produrre piccoli lotti sempre precisi. Con HG ARS sono riuscito a piegare a cure particolari che non avrei mai pensato di poter produrre con un robot. Questa macchina è veramente sorprendente. Ha delle funzionalità che ti permettono di andare oltre i limiti del robot. Il software è molto intuitivo, riesco a produrre delle parti che sono molto complesse con tantissime problematiche. La programmazione di HG ARS è molto più semplice, nel senso che il software ti guida passo passo, in pochissimo tempo riesci a generare un programma già pronto per l'utilizzo. Secondariamente il setup macchina su Leastro era molto lungo e laborioso. Su HG ARS con le varie possibilità che ha di sostituire le pinze in automatico, sostituire l'utensione in automatico, alcune opzioni che ti permettono di raggiungere l'obiettivo senza perdere troppo tempo. Con Amada abbiamo un buon rapporto anche perché ci conosciamo da tantissimi anni. Quando ci sono problemi legati a nuove attrezzature e nuovi prodotti, mi rivolgo allora con dei disegni e Amada ci dà un supporto fino all'esecuzione del primo pezzo. Indubbiamente Amada ci ha seguito nella punzonatrice prima e nella piega dopo da moltissimi anni. Quindi è chiaro che quando abbiamo qualsiasi tipo di problema a livello di soluzioni, di attrezzature, di tools, ci rivolgiamo ad Amada. Grazie. Grazie.